Partiamo la prossima settimana con i soggetti che sono stati indicati dal Ministero e dalla Regione Toscana, quindi soggetti estremamente fragili che sono idealizzati, trapiantati e oncologici. Tutto pronto in provincia di Arezzo per le somministrazioni della terza dose di vaccino anti-Covid che potrebbero partire già dalla prossima settimana. Ad indicare nel dettaglio categorie e tempi è la circolare del Ministero della Salute, 10 le categorie di pazienti che riceveranno prioritariamente la terza dose, a partire da trapiantati e malati oncologici. Per queste fasce si deve parlare di dose addizionale, ossia per questi soggetti si tratta di una dose aggiuntiva a completamento del ciclo vaccinale primario di due dosi per raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria. Si somministrerà almeno 28 giorni dopo la seconda e il prima possibile se il lasso di tempo è già trascorso. Come verrà? Verranno contattati dall'azienda sanitaria? Naturalmente sì, perché queste sono persone con problemi di salute, pertanto verranno contattati e quindi poi saranno avviati al percorso vaccinale in brevissimo tempo. La dose booster invece conta su una platea di riferimento priva di soggetti particolarmente fragili e destinate infatti a popolazioni connotate da un alto rischio per condizioni di fragilità che si associano allo sviluppo di una malattia grave o addirittura fatale o per esposizione professionale. La dose booster verrà somministrata dopo almeno sei mesi dall'ultima inoculazione, tuttavia questo gruppo sarà definito meglio successivamente.